Primo giorno di scuola per i ragazzi che hanno scelto di specializzarsi. L'istituzione formativa cambia volto e anche sede, aule nuove e comfort per rendere al meglio l'apprendimento e maggiore spazio per laboratori. Abbiamo la scuola più bella della provincia di Riete, esordito il direttore Carmelo Tulumello, che al fianco del Consiglio d'Amministrazione e della Presidente Lice Alonzi ha inaugurato l'anno scolastico. Serve avere una mentalità nuova nel mondo del lavoro e noi questo cercheremo di fare. e abbiamo cominciato dando loro una sede e una struttura che sia degna di questo nome. È vero, è la scuola ad oggi più bella, forse se non altro perché nuova, devo dire grazie al Consorzio per lo Sviluppo Industriale che è stato di una disponibilità estrema. Sette corsi estetica, acconciatura, autoriparazione, meccanica, cuoco, cammediere, agricoltura ed alta formazione. Io ho consegnato le chiavi di questa scuola prima di tutto a un alunno, a un professore e alla direttrice perché solo insieme si possono raggiungere dei risultati e rispettando soprattutto la dignità di ciascuno e il ruolo che svolgono. Due le sedi periferiche, un appoggio Mirteto in Sabina e l'altra da Matrice. Gli oltre 200 studenti hanno iniziato le loro elezioni con l'orgoglio di non sentirsi di Serie B, una scommessa che vinceremo, dicono direttori dei corsi, collaboratori di insegnanti, per diventare sempre più esempio di professionalità anche fuori dai confini provinciali. Stiamo anche vedendo la possibilità di far fare loro delle esperienze all'estero, proprio perché ormai bisogna vedere il mondo del lavoro non più in un'ottica strettamente interna, ma sempre più aperta. Una scuola che ha avuto un completo restyling, dove tutta l'estate si è lavorato per arrivare al primo giorno di scuola pronti per iniziare. Buon lavoro!